Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In A1 direzione Roma, code a tratti tra bivio A1, A11, Firenze, Pisa, Nord e Incisa, Reggello, tra Rocco, Bilaccio e Calenzano. Sempre in A1 direzione Firenze, code a tratti tra bivio A1 variante di Valico e Aglio. In A11 direzione Firenze, coda di un chilometro tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria e coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico intenso in direzione Pisa. In FIPILI, code a causa della viabilità esterna che non riceve allo svincolo di San Mignato Basso. Morsi in Toscana Info realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Frenze. Anche per oggi è tutto, buon viaggio!